...sopra della realtà presidenza della poppisa e di conseguenza il nostro voto sarà nostra, grazie. Mettiamo in votazione l'avventamento. Speriamo la votazione. Presenti 32, favorevole 24, contro alle 7, assenutino uno approvato. Mettiamo in votazione la delibera, così come è data. Siamo infatti in votazione. Vediamo la votazione. Presenti 32, favorevole 24, contro alle 1, seguito approvato. Mettiamo in votazione i regolamenti di sicurità. Mettiamo in votazione i regolamenti di sicurità. Mettiamo in votazione i regolamenti di sicurità. Vediamo la seguità. Non è che chi esce prima dice la bamboletta. Speriamo la votazione. Presenti 26, favorevole 26, contro alle 0, assenutino uno approvato. Nell'ultimo punto di sicurità del giorno, se non è più, vi ricordo. Grazie.